Eccoci pronti per una nuova batteria di domande. Cominciamo subito con la prima. Quali tra le seguenti è una buona tecnica per l'inclusione? Il debate. Seconda domanda. Il ritorno al gruppo base è una fase del... Gigsaw. Terza domanda. La ricerca storica in pedagogia oggi prevede... L'affiancamento alle fonti tradizionali di nuovi archivi di ricerca. Quarta domanda. A cosa ci riferiamo se affermiamo la scienza che ha per oggetto l'esame critico della ricerca scientifica e della stessa nozione di scienza? All'epistemologia. Quinta e ultima domanda in inglese. Are there any potatoes in the fridge? No. There aren't. Bene ragazzi, con queste domande per oggi abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima.